Siamo a Pavia presso il Policlinico San Matteo per un incontro incentrato sull'ipertensione polmonare. Abbiamo il piacere di parlare con Paola Pellò che è referente regionale Lombardia e Piemonte dell'Associazione Malati di Ipertensione Polmonare. Allora Paola ci racconti un po' chi siete e quali sono le vostre principali attività? Allora l'AMIP che è l'Associazione dei Malati di Ipertensione Polmonare è nata con lo scopo di aiutare i malati e di creare un ponte tra il malato e il medico in quanto purtroppo capita che come a Pavia sta succedendo che arrivano molti malati da varie parti d'Italia e quindi hanno delle difficoltà enormi nel raggiungere sia la città di Pavia e sia dove fermarsi a dormire e dove anche alloggiare e quindi noi come associazione il nostro scopo è di poter aiutare, coordinare questi malati quando arrivano a Pavia, di cercare degli alloggi per poter soggiornare e poi naturalmente anche l'aiuto nella compilazione delle varie ricette mediche, cose che devono fare e come che devono recarsi a Pavia e anche per gli orari dei treni, dei mezzi pubblici. E come fare a contattarvi? Dove vi possono trovare i pazienti? Noi siamo su internet o se no semplicemente sulla pagina Facebook di ipertensione polmonare però all'ospedale di Pavia nella sala d'attesa dell'ambulatorio di ipertensione polmonare c'è una bacheca dove è esposta una mia lettera di presentazione come referente della regione Lombardia e Piemonte con i miei dati e c'è sia il mio indirizzo e-mail e sia il mio numero telefonico. Soprattutto noi ci troviamo il giovedì, io e la signora Renata Zancarella che è l'altra referente per la regione Lombardia ci troviamo il giovedì che è il giorno della ipertensione polmonare Altrimenti se un malato ci vuole contattare può pure telefonarci e possiamo incontrarci anche in altri giorni Ci racconti un po' quali attività, quali iniziative avete messo in atto? Ad esempio ci raccontavi di un'iniziativa rivolta soprattutto alle donne Nella città di Varazze che è la città delle donne, quest'estate abbiamo fatto una mostra fotografica con lo scopo principale di informare la popolazione che esiste questa malattia grave autodegenerativa e di poter fare in modo che una donna appena ha dei sintomi di stanchezza, di mancamento del fiato diciamo in parole poveri, di farsi subito un check up completo per poter prevenire la malattia E allo scopo di informare i pazienti voi avete realizzato anche un giornalino Sì, abbiamo un giornale che esce semestralmente e viene inviato per posta a tutti gli iscritti Naturalmente un malato che si iscrive alla nostra associazione è l'iscrizione completamente gratuita e ogni sei mesi arriva a casa questo giornalino informativo e una volta all'anno cerchiamo di fare un incontro medico-paziente per poter fare un punto sulla situazione sia dal punto di vista del malato e sia dal punto di vista medico in quanto in questi incontri qua c'è una piccola conferenza dove il medico parla appunto della malattia dove si arriva con le ricerche, che farmaci nuovi ci sono e il malato può fare delle domande che alcune volte in ambulatorio magari per mancanza di tempo perché magari è anche un po' agitato diciamo per la via della visita non ha il coraggio di fare o magari si dimentica di fare Per concludere posso dire che il nostro scopo principale quest'anno è una petizione online che abbiamo lanciato sulla piattaforma di Change.org per l'esenzione dei ticket per la malattia dell'ipertensione polmonare Siccome la regione Lombardia è una delle regioni all'avanguardia per la cura per l'ipertensione polmonare però purtroppo l'ESSA non riconosce la malattia come malattia rara e di conseguenza i malati non hanno un codice preciso di esenzione quindi si devono sobbarcare delle spese che variano dalle 800 alle 1500 euro all'anno di ticket e noi stiamo lanciando questa petizione per poter andare in regione Lombardia e fare in modo che l'ipertensione polmonare venga riconosciuta malattia rara e di conseguenza ha un codice di esenzione come sta succedendo in Piemonte